Se noi osserviamo bene il nostro corpo, i sentimenti spontanei che viviamo, dobbiamo notare che il corpo va sempre in cerca di soddisfazioni. Nonostante le sue debolezze è un eccellente strumento di santificazione, proprio perché c'è questa tendenza al benessere, la santità è un benessere spirituale. Arricchita dal don dei sensi, l'uomo tenta insensibilmente verso la ricerca di forme di diletto. San Paolo parla di mortificare il corpo per elevarsi in Dio. Questa ricerca può divenire un ostacolo alla perfezione spirituale, tanto che San Paolo parla di necessità di mortificare il corpo per liberarsi dalla tirannia e assicurare la propria salvezza. Non si tratta di limitare la vitalità dei sensi, ma di evitare che in essi si vede solo il piacere sensibile, senza elevarsi a Dio, se non addirittura usandoli contro il progetto di Dio. La vista è il più nobile dei sensi, ma anche il più pericoloso, per la forte seduzione che le immagini esercitano sull'anima. Accenniamo agli sguardi peccaminosi che provocano situazioni di peccato. L'udito non basta astenersi dalle conversazioni contro la fede, ma è importante mortificare l'udito per preservare la mente dal peccato. Astenersi da alcuni spettacoli televisivi, creare momenti di raccoglimento, rinunciare a notizie e curiosità. L'ignoranza, compattere l'ignoranza in ogni campo della vita dell'uomo. Vi è responsabilità nello studio delle scienze umane, specialmente quelle concernente la propria professione e i doveri del proprio stato. Questo è un punto molto importante per coloro che tendono a una professione di salute, di benessere e di sviluppo della società. La curiosità è una malattia della mente che ci sollecita ad apprendere e cognizioni che ci piacciono anziché quelle che sono utili. Curiosità vuole sapere tutto degli altri per poi parlarne e riparlarne con conseguenti offese della carità. I giudizi sono pericolosi i giudizi che si esprimono affrettatamente, si parla senza riflettere, tutti parlano del dialogo, ma sono pochi quelli che si mettono in una ricerca della verità. Padre Pio, pur presentando un programma di vita impegnativo, infonteva fiducia ed iscriva una fila spirituale. Vivi tranquilla anche in questo stato attuale. Elevate sopra te stesso con le frequenti orazioni giacolatorie e l'espressione del cuore verso Dio Padre.